Il Comune di Trieste utilizza i social media ormai da oltre dieci anni per non solo comunicare, informare i cittadini, ma soprattutto coinvolgerli nell'attività che l'amministrazione porta avanti e quindi riuscire a intercettare i bisogni anche del cittadino, le necessità che ha per migliorare poi l'attività dell'amministrazione tutta. Abbiamo capito che i social media erano lo strumento giusto per riuscire a coinvolgere i cittadini perché sappiamo bene che tutti i cittadini ormai hanno uno smartphone, che tutti noi abbiamo uno smartphone e che utilizziamo i social, per cui abbiamo sfruttato al massimo queste piattaforme per poter raggiungere il cittadino e per poter migliorare il rapporto dell'amministrazione con i cittadini tutti, sfruttando poi le diverse piattaforme e scegliendo ovviamente la piattaforma in base al target che volevamo andare a raggiungere. Ovviamente Facebook non si adatta per i più giovani, per cui abbiamo utilizzato Instagram piuttosto che TikTok, piuttosto che altre piattaforme. La scelta poi è stata quella di creare una sorta di URL 2.0 attraverso principalmente il direct message di Instagram e il messenger di Facebook per poter colloquiare con i cittadini in formato one to one, quindi riuscire veramente a non far sentire più il cittadino un numero, ma a farlo sentire parte di una comunità e soprattutto riuscire ad ascoltarlo e risolvere anche quelle che possono essere le problematiche più spicciole che una persona può avere nel corso della giornata. Durante la pandemia la scelta è stata quella di utilizzarli ancora in maniera più intensa per riuscire a tranquillizzare innanzitutto la popolazione e far capire che l'amministrazione comunale era presente, stava facendo la sua parte, ma soprattutto riuscire anche a tradurre quelli che erano i vari dpcm. È stato un lavoro particolarmente intenso ma credo particolarmente importante proprio perché siamo riusciti a non solo a tradurre magari dei documenti che erano anche difficilmente interpretabili, ma soprattutto a riassumerli anche con delle infografiche proprio per farli in modo che questo tipo di comunicazione arrivasse a tutti ed arrivasse a tutti in maniera semplice e chiaro.